salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 58esima puntata alla serie cacao meraviglia o anche questa sera sono qui in brasiliero in compagnia di bull dir che sta giocando con le balle di fieno o erba ancora per poco ciao a tutti non tornare così fatelo cascato poi abbiamo dvd charlotte tutto tuo energy ciao ragazzi poi chi abbiamo qua matti ciao a tutti e basta vabbè è impegnato al momento sta facendo sicuramente dei lavori molto molto concentrati a eccolo bene ragazzi allora oggi andiamo ad acquistare un nuovo campo un nuovo campo che destineremo per erba e fieno è dato appunto il costante aumento della quantità delle nostre vacche come il nostro praticamente campo è seminato di colze ed è anche già pronta sto preparando appunto la trebbia con la testata per l'andarlo a prendere andiamo al campo 22 un campo un po' distantino da casa però siccome anche le volte che viene fatto appunto erba fieno eccetera eccetera è inferiore a quelle in campo viene seminato e allora abbiamo deciso di che altro sarebbe scomodo andarlo a quel trebbio che vanno piano e allora meglio partino si allora tanto i trattori i trattori per strada ce ne sono che vanno veloci e allora anche se è un po' distantino come potete vedere il campo 22 ogni tanto se ce n'è tanto su un colpo e via se no eventualmente nuovi rimorchi autocariccanti ne vendono ancora se proprio saranno necessari bene premettiamo giù qua intanto la barra del girasoli che non ci serve era un po' che era sopra il carrello e prendiamo trebie barra e andiamo al campo 22 lo compriamo e iniziamo pure trebbiare dopo che magari mi porto lì un rimorchio dato il campetto dovrei fare anche abbastanza veloce non è molto molto grande l'immigrato poi poi viene quando ha finito poi vanno sì sì arrivo tra un paio di mesi perché qua ah no beh questa bestia qua vedo che dopo ovviamente dopo le trebbiature il campo avrà bisogno di anche una concimazione e se no dovremmo andare con spandilettame però è un po' più laboriosa la faccenda e la botte ovviamente contiene più litri e perciò ci permette di fare anche più strade va beh adesso ci incamminiamo con la trebbia e poi vediamo di iniziare anche le trebiature di questo nuovo campo siamo arrivati al campo hanno fatto scalino sulla strada che si va bene uscire ma non ad entrare purtroppo e vabbè ecco qui finalmente pallino per andare ad acquistare il campo 22 ora andiamo di calci sopra il campo numero 22 3 etari 74 302 mila euro bene possiamo comprarlo è ufficialmente nostro e quindi possiamo ufficialmente iniziare le trebbiature vediamo di sistemare un attimo qua adesso attestata attaccarla alla trebbia sistemare tutte cosette e adesso appena immigrato si sarà liberato da eventuali altri lavori con con le vacche può venire finalmente a scaricare la trebbia allora visto un 939 no non ancora manca da fare lo scarico col piccion tanto qua prepariamo tutto e iniziamo a trebbiare hola polizza dovremo fare anche abbastanza presto questo campo per quello non c'è neanche concimato quindi non c'è si intanto preparo già il condotto esteso in modo che bene ragazzi come potete vedere è arrivato Bull Deer e subito si è impiantato sullo scalino quando come avevo previsto ok guarda 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 no non me ne sono accorto guarda ehi e si mette alla fine aspetta vai che siamo una a questo punto mi conviene a scendere che non lo grazie augusto bestia post ok ricordarsi il mio carro bene ricordarsi il mio schermino bene ricordarsi il mio schermino Allora, fai il giro e dopo vi ritorna. Bene ragazzi, adesso dobbiamo anche vuol dire, quindi possiamo andare avanti tranquillamente tra virgolette se non si incastra di nuovo sullo scalino e eventualmente se si incastrasse nuovamente sullo scalino riprenderei subito il video. Ora con 6 milioni e 914 mila euro proseguiamo il trebietro. Bene, le trebietture intanto qui stanno procedendo, Buldiro continua ogni volta, ogni giro a rischiare di cadere nel burrone, intanto primo carro pieno e ormai il campo è anche, non dico finito ma quasi, era anche non concimato quindi proprio appena appena appena. Bene, intanto qui finora tutto a posto e notizie ancora non ne abbiamo avute della botte. Cosa che sei qua? Cosa che canta? Pronto? E anche il Gaio? Pronto? 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 Pronto, guarda che sono energia e ho notizie della tua botte. Ah, proprio guarda, stavo pensando di questa botte se era pronta o no. E' perchè tutto ieri e oggi i meccanici hanno analizzato bene e i danni non rientrano nella garanzia perchè è scaduta la settimana scorsa. Beh, ma scusi Nati, puoi farla rientrare un attimo? Cioè... Eh no, mi spiace, su queste cose siamo rigidi. Eh, ma... Però è qui, però, ovviamente è stata sveglia di notte perchè ho pensato a lei, allora ho cercato una soluzione... Eh, ma scusi un attimo, ma a quanto monterebbe la riparazione? Ah, purtroppo mi pare dicendo questa. Perchè la riparazione perchè si è proprio dato tutto, anche l'impianto dentro, che è tutto il turbine e roba che spara fuori tutto, no? Allora ho valutato che sarebbe meno costoso comprare una nuova che ripararla, perchè ripararla dovrebbe costare mezzo milione di euro. Però quanto? Mezzo milione di euro perchè è una roba... perchè prendiamo i pezzi pregiati, allora... Eh, eh, cazzo, eh, ho capito mica se pezzi pregiati, ho capito mica se... fratelli bussini e... e... tutta merda eccetera eccetera, ma... Eh, sembrava un po' esagerato, in fin di conti, butta fuori a pizzo, non è che... faccia qualcosa di... Sì, ma sono materiali agricoli grandi e costano soldi i pezzi. Eh, sì, vabbè, ma la... cioè, mi penso che se me la favo fare su misura da una fonderia, me costa da manco? Eh, appunto, per questo l'ho trovato una... sempre un'altra botta della Boscini. Eh? Un po' più grande, con apertura... molto più grande, se non sto qua a dire le cose tecniche, che... che costerebbe meno, insomma. Nuova di scena. Sì, ma quattrocento e novantanove mila o... o meno nel senso di cinquantamila euro? Eh, no, costa un po' meno. Vabbè, allora guardi, adesso sono qua di strada, dopo passo... passo di là a vedere... Vabbè, tanto sono qua che sto facendo... Sì, sì, tu stai lì, che... anche se è il prossimo giorno, un'ora di pranzo. Eh no, anche adesso c'è pausa pranzo, giusto? Grazie a me la ricorda. Passo... Bar... 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 barati... Grazie a... come si fa lavorare così, pausa pranzo, anche a pausa pranzo... Cioè, non la fa neanche all'immigrato, che va a farla? È in Ergina, non capisco, vabbè... Eh... Bene, tanto qui... stiamo proced... Chi che cosa? Cb, di me. Eh, cos'è Dio che ti vuoi venire direttamente al shop di... Eh, sì, sì. Eh, ma che se qua è il... quello della class che ha da fare la revisione là dopo un mese per valutare i usure, per fare i test da... E quindi devi portarla a casa, non so. Va bene, allora... porteremo a casa prima di... Di passare, andremo dopo in macchina, allora... Eh, è meglio sì, perché no, perché se qua è finato non fai bene. Sì, sì, dopo c'è lagna che... che fanno perdere tempo. Bene, allora... proseguiamo, tanto qua ormai ragazzi manca... una passata, mezza, due, dopo... Sì, però vedi... falla dritta almeno... Eh, sempre devi lamentarti... Ma va, 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 guarda, tritta, va, che la caratteristica che fa... sulle specchie... Ase, ase, dritta come un proiettile al vento. Dio dito 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 come un proiettile al vento. Eh, ma se vede tira contrario proiettile al vento. Eh, quindi può esser dritta, può essere anche storta, c'è. Dio dito come un'oculma, praticamente, di poca parola. C'è uno schifo. Va, che roba. Ma va, va, è tutta la dritta, se ne scepetava. Oh, Marco, guarda che fra poco è pronta a carbonara a casa. Eh, guarda, c'è... Eh, ma ti piace, corri, 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 corri. C'è, no, perché ho fatto tocchini di pasta in cinque quanti siamo? Eh, aspetta che dico con i passi in... Tocchini di pasta. Ah, mangio un minimo... Anch'io e mezzo. Eeeh... Ti mangi una frigo e ti si sono... Guarda, guarda, aspetta che... Do un po' di olio alla prebia qua e... E... No, ma... A me ne ho fatto esplodere il forno, però... C'è a prendere uno nuovo. Eh, ma... C'era scritto... Maxi cottura high speed. Eh? Però era sconsigliato utilizzarlo... In estate, perché la temperatura interna del forno arriva intorno ai 6.000 gradi. Eh, sì. Il sacco è squarrato un po' è partito che... Se per caso ho cliccato il bottoncino high speed cottura... Eh, ma è una canonata e ho definito... Un'idea che gli ho fatto. Ma questo forno è solo il traliccio della corrente, ti sapevo cosa? Eh, no, forse non è nostro, meglio andarlo recuperare. Non è anche la finezza, aspetta che il cavo è il petraio, eh. Meglio, meglio, meglio. Eh, portacadano un po' di uova, ma... Un po' di uvechi. Ma poi stasciute, sei ancora dentro il forno. No, 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 dovevo fare il pane in forno. Lo scaldare il pane. Ah, scaldare il pane. Ma è scaldato alla fine. Sì, 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 guarda, proprio la corticina... Eh, non dico nera, però leggermente farocchina. Vabbè, dai, ingrateremo via. Stiamo andando a cuore. Sì, 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 sì. Di color carbonella. Bene, proseguiamo. Bene, allora ho preparato qua la Trevi intanto dopo di venire quello del controllo, dell'usura dei pezzi e tutto. Li ho già aperto i portelloni anche perché il motore è molto caldo e ha trebbiato il campo. Almeno si raffredda un po'. Adesso qua è mezzogiorno passato da un'ora e... E' bene. Pausa pranzo. Ehm... Ehm... Che si dovrebbe fare qua tutto aperto? Si è rotto anche questo adesso. Ehi! Ehm... 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 Scusa che ho il compressore con l'aria. Ehm... Si dovrebbe pulire un po'. Si è rotto anche questo che è tutto aperto così. No no, si dovrebbe pulire. Si dovrebbe pulire. Ehm... Che ho visto a porta. Bene. Vamonos. Tutto si va. Vamonos. Girofari. Ok. Girofari importantissimi sempre. Faccio fare che manovre. Ora. Ehm... Pabussini. Cosa ha detto? Che no, non è... Non è riparabile con pochi soldi. Ha detto che ci vuole mille 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 euro. Ehm... Ho detto che mi conviene intorno alla nuova. Perché è tutta usurata. Tutta... Sai... L'acido del piso. Guarda, guarda. Se ti vai via a mezzogiorno toccati gente che vuole... Oh, tu ti rendi? 150 all'ora no. Perché... Mi devi andare a casa a mangiare. Quando devi tornare a lavorare tutti vanno a 30 l'ora. Guarda. Quattro... Ma no. Quattro... Scaneati qua. Non voglio fare niente. E niente. Così tutta, sai, corrosa dal... Della... Della... Della acidità. E allora... Cos'era il difetto di fabbrica? Ehm... Anche si. Però ha detto che... Fata la garanzia era scaduta da... 10 giorni e... Ehm... Che sfiga. C'è sempre che sai... C'è sempre così... C'è sempre così... Ma il gioco fa qui è che... Un paio non ho ripreso questa parte. Femmine... C'è tutto. Ehm... Ehm... Oh... Toccappa sebbe buco pesce... Din 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 din... Si dai... Senti din din din... Della dai a con... Dì che problema... Ah ostio qua! E din din din... Ancora della dai? Ehm... Il campanello puoi chiamare... Ah se... Sono appena arrivata dalla fossa pranzo... Questo fame ancora qua? Same... Non lo compro nessuno. Stano. vabbè comunque vabbè vengo in qua che ti faccio vedere si eh fammi vedere sta volta pare che attrezzature in qua qua cioè io abbiamo provato i meccanici abbiamo provato tutto ad aprirla ma niente a fare tutto blocco rotto abbiamo provato ad andare dentro tutto corroso tutto rovinato tutto corroso, ruggine anche abbiamo trovato addirittura ma lì è mancanza di zincatura eh sì 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 vabbè comunque vieni che ti faccio vedere ti ho già arrivato il pezzo nuovo ti ho già ordinato quello che fa bene per te ti ho letto nel pensiero cosa ti serviva già vediamo vediamo cosa c'è è arrivato è arrivato prima sarà una bote uguale magari vita simile ma e Marco del trattore ti ho detto che tu sei attaccato insomma eh sì sì no stavo guardando non so se vuoi comprare questa perché ha un'apertura aspetta tenete duro da qualche parte di 36 aspetta che mi poso sul timon guardate che sei cori mani qua 36 metri di apertura 36 metri di lavoro sì cioè la roba la vuoi comprare vero Marco vedi la mia felicità vabbè dai eeeh costa 100.000 euro sì vabbè però dai ti ho dato dentro l'altra botte appunto mi hai fatto lavorare di notte di giorno 100.000 euro minimo se vuoi che alza 110 anche vabbè vabbè dai guarda che pistoni guarda che roba questa qua è vera uscita di fabbrica data di rilascio febbraio 2018 cioè nuova di zecca sì sì proprio quanti litri tiene? cosa sa? tiene 25.500 litri però ah vabbè dai proviamo a vedere se se trattore se funziona no la tiro fuori io perché l'ultima volta mi ha spaccato tre tratte cancelli eeeh no 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 dvd ah sai sai che c'è range che mi tocca pagare 8 quarti del capanon qua fa la seconda volta ha scritto 280 come mai tiene 250 no ma poi c'è eh ma saranno sai per le questioni secondo me i 250 sono è una questione sai di normativa il libretto per strada e no c'è un po' di la sanghetta di tre ure ha fatto tre giri è un po' di frena frena aspetta che stacco fortuna che è vuota poi se no e marco vieni tu si si guido io guido io no 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 vieni lì tacca il cane dai fuori vabbè dai ecco il cane posto buon eh scurito aspetta mi sembra tutto firme sulle carte per il pagamento si vivo vivo sempre pagare mi sembra che bisogna pagare ma tanto vedo se funziona questo è un negozio non è mica un dammi qua aspetta che sono il campaneo ding 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 buon posto funziona funziona ancora funziona ancora buon a posto dai che andiamo a posto buon lavoro vai marghia vergine ma il nuovo sistema con gli interattori questo qua tipo mette direttamente si ma no nel senso sparge ma no proprio che spruzza così tutto per aria lascia direttamente sul livello del terreno e quindi evitando magari anche cioè fa anche lavoro migliore dell'altra questa perché è tutto più preciso insomma si 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 guarda guarda cani cani ma ci sono i ricambi di queste canette qua perché vedo già l'immigrato che le rompe quindi no beh questa non costa lente c'è costa 50 euro un pacco di una sezione qua c'è una sezione da 30 canette mi sembra 20 vabbè dai aspetta che che qua guarda brevettato brevettato addirittura aspetta che monto qua se vediamo insomma aspetta che tiro sotto a macchina dai aspetta chiudi dai chiudi scelera smonda smonda che novità due girofari due girofari sulle buone e montati personalmente adesso per il teatro bene 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 anche i frecce vabbè qui per forza sennò andiamo per strada dai che andiamo che sennò qua vabbè dai ci vediamo dobbiamo provarlo subito arrivederci signorina dai che con tutto il campo nuovo sembrano erba e si va che affamate occio 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 ma vai vai via guarda che roba vai vai via dritto imbriagon occio macchina ma forse c'è anche il problema dei team occio ma sarà stasera il segra ingancia mai a botte non è possibile ehm cos'è a te vabbè dai proseguiamo e manco spesso il prossimo bene ragazzi allora abbiamo riempito la botte al biocass e adesso vediamo di andare di andare di non andare addosso i palli ma di andare entro il campo per andare a smerdare i campi che a volte scorsa dovevamo smerdare ma causa qualche rottura non abbiamo potuto fare niente allora ti spieghiamo qui la nostra botte abbiamo 36 metri di lavoro e aspetta che tiro indietro un po' a camera perché qua altrimenti tutto questo tutta questa area di lavoro qua è una cosa immensa per attivarla devi schiacciare in V cos'è che cosa? stampo il lavr V no V v v v v v v v v guardiamo la gps ragazzi vi ho dato queste grandezze qua amari ti piace mettere qua perchè conosci mafia fin si 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 lo so adesso sto spostando un po' qua gps si si lo so 70 abbiamo 76 metri e bene eccola qua non fa 3,8 rumore perchè appunto abbassando così va via piano ma intanto proseguiamo 16 km orari stanno giù di qua si 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 sta andando sta andando eh dico non fa rumore come dire spartimento per aria eccetera eccetera però col fatto che sono tutti stupiti a raso del campo ho capito non non c'è neanche sforzo proprio proprio si vede hanno progettato una pompa silenziosa apposta per questi tipi il lavoro dunque adesso possiamo andare a vedere meglio le scritte qua B280 sa che bestie botte sa che una botte ti arrivi a caos eh cioè qua ragazzi due passate finiamo praticamente il campo oh 2 vaga bene ancora 16 16 km orari via tranquillo di volta si si qua due passate dopo penso che siamo a posto eventualmente magari se mancasse solamente una righetta ci potrebbe andare magari con spandilettame che allora fa meno metri e senza sprecare tanto eh tanto il liquido che capito eccolo qua ecco qua bene una passata è fatta adesso vediamo con la seconda quanto di quanto ne consuma? ho consumato praticamente sono restato con il 24% eh dai eh ne consuma ne consuma devo dire con tre passate fatto il campo bene ragazzi tanto noi qui proseguiamo e dopo eventualmente riprendiamo quando sarà il momento di andare al campo 22 e magari anche a seminare iniziato a concimare anche il nuovo campo questo qui e questo qui con questa botte si fa molto molto presto a parte il viaggio di andare a ricaricare la botte subito abbiamo dvd con seminatrice con seme diciamo seme dell'erba e a maria a maria per appunto dopo seminare ho preso l'occasione ragazzi ho consumato anche l'erba che avevamo a casa quella a fianco alle vacche in modo da farne più quantitativo e niente direi che anche per questa puntata è tutto abbiamo fatto poi i lavoretti abbiamo preso la botte preso il campo ho lavorato bene ci vediamo nella prossima puntata dove andremo tagliare l'erba in questo campo e sicuramente ci sarà un acquisto di qualche falcettrice più grande per permettere maggiori ho c'ho qualche film a fine l'immigrato del primo e cocaro fai teste fai teste ma buttate le teste mi raccomando fai teste fai un giro le teste 4 che teste fai mezzo campo fai mezzo campo fai mezzo campo aspetta qua facciamo eh bene salutiamo qua i nostri operai abbiamo Energy che salutiamo noi perchè non si saluta da solo poi abbiamo DVD da tutti Buldir ciao a tutti e Matti ciao a tutti e ovviamente anche l'operaio che oggi ha lavorato più di tutti che ha proprio fatto vedere le sue abilità tecnico operative conseguitesi abbiamo basta bene ha salutato e vi saluto anch'io ciao a tutti e alla prossima ciao ciao ciao